Buongiorno, buongiorno e ben trovati. In questa edizione di Mattino 6 vi accompagniamo all'inizio del mese di agosto, in questo martedì 1 di agosto, lo faremo attraverso le notizie principali che leggeremo con i giornali, con i quotidiani abruzzesi, ma anche con le prime pagine delle principali testate nazionali e poi vedendo anche alcuni servizi confezionati ieri dalla redazione del TG6. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani locali, iniziando dalle quattro edizioni del centro. Siamo subito sull'edizione di Pescara, questo il titolo d'apertura. Pescara bollente, scatta l'allerta e tra le cinque città più calde d'Italia per oggi e domani è segnalato il livello massimo. Sotto la testata, dati Istat, aumentano le donne al lavoro disoccupati in calo a giugno. La fotonotizia al centro comune per le quattro edizioni del centro, Margaret Made, ora porto l'Abruzzo al cinema. Da oggi il primo ciac tra Martinsicuro e Torano Nuovo. Di spalla leggiamo gli sfollati di Rancitelli, famiglia con nove figli, dorme in auto da 22 giorni. E poi in basso, diversi richiami tra le cronache della regione, quanto ci costa per gli abruzzesi tenere un'auto diventa un lusso. La nostra costa, Goletta Verde, ieri ha concluso il tour in Abruzzo, i cinque punti dove non tuffarsi. Per il trasporto regionale, tua approva il bilancio per i fondi per i bus. E poi ancora leggiamo a Loreto Aprutino, Branco di Lupi all'assalto di un caseificio. E a Francavilla, questa sera, il concerto di Loredana Bertè. E poi in basso, il buongiorno Abruzzo, quei piatti conditi da troppe parole. Vediamo ora l'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Con questa apertura, molestano la figlia e picchiano il papà, San Salvo, turista aggredito da due giovani che importunano la ragazza minorenne. E poi i richiami di spalla per la cronaca. Ecco qui, Chieti, Ateneo Capasso nominato al vertice della fondazione. E poi ancora, in taglio medio, leggiamo a Tessa, Sevel si prepara a produrre il nuovo Ducato. E a Tornareccio si finge parente e gli porta via 30.000 euro. Vediamo adesso l'edizione di Teramo. Questo è il titolo d'apertura. Picchia la moglie e la fa abortire. Arrestato un 48enne di Martinsicuro avrebbe maltrattato anche i figli piccoli. E poi a Teramo tiene sempre banco il problema delle scuole. Contestato il progetto delle scuole allo stadio. In basso leggiamo due richiami di cronaca per le città della costa. A Giulianova è introvabile il motopesca naufragato. Ormai siamo ad una settimana da quell'incidente in cui hanno perso la vita i due marittimi, Carlo Mazzi e Delia Artone. E poi a Roseto cambia il modo di pagare le strisce blu. L'edizione di L'Aquila, Vezzano e Sulmona del centro. Con questa apertura Don Vito rischia la sospensione. All'Aquila il prete nel mirino del Vescovo dopo la relazione con una donna sposata. Poi leggiamo di spalla da Vezzano. Lo staff del sindaco costa 32 mila euro per sei mesi. Poi a Sulmona per 200 alunni. Rientro in classe nei muspe. A Tagliacozzo, giovane uccisa dal cancello. C'è l'inchiesta. Ora la prima pagina del messaggero Abruzzo con questa apertura. Sisma in mare, paura a Pescara. Nella notte due scosse di magnitudo 3.6 e 3 al largo della città. Lo sciame interessa la faglia di mattinata, dice l'esperto Antonio Moretti. Nessun pericolo per gli edifici. Scosse che si sono registrate nella notte tra domenica e lunedì. E poi sotto la testata possiamo leggere trasporti, bilancio tuo inutile, fondi per l'acquisto di nuovi bus. Sempre all'Aquila, computer, quadri e materiale edile nel deposito dei latri di appartamento. A Pescara, viaggio nelle periferie, case popolari da incubo, lo sgombero dei tre palazzi dell'Ater in via Lago di Borgiano. E soltanto alla punta dell'iceberg infiltrazioni e cornicioni pericolanti in tutti i quartieri. E poi leggiamo di spalla Castelbasso, Arminio apre gli incontri letterari. E poi ancora il vincitore del premio Viareggio, ospite stasera nel centro Terramano. Vediamo in taglio medio la fotonotizia. Eccola qui, Adriatico inquinato alla foce del Cerrano. Una vera e propria sorpresa, i dati delle analisi di Coletta Verde, poi vedremo anche il servizio. E a Terramo, vertici in prefettura, scuole sicure, brucchi dal ministro Fedeli. Sempre in taglio medio, biglietti, omaggio e tasse al setaccio, i conti del Delfino. Comincia da domani l'ispezione ordinata dal Tribunale, possibili conseguenze penali. E poi ancora l'Aquila, la love story del Parago, bufera sulla Curia. In basso, l'ultimo titolo che possiamo leggere, Chieti, l'Ateneo cambia, nuovo direttore, arriva il bando. Ed ora la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Terramo. Ovviamente, come detto, l'argomento principale è quello delle scuole. Ecco qui, basta con, sta tutto a posto. A 40 giorni dalla prima campanella non c'è ancora una linea per affrontare l'allarme. Indici sismici. Sotto la testata senza telefono da Araldo è impossibile prenotare il ristorante del Parco a Frattoli di Crognaleto. E poi i danni del terremoto al patrimonio Ater. Case popolari servono 65 milioni per i lavori. Intanto ne spegniamo almeno uno al mese per gli sfollati. C'è la lettera di Marcello Martelli. Declino e glocalismo. E poi leggiamo di spalla per la cronaca a Sant'Egidio. Pasticcere muore un mese dopo l'incidente in moto. E a Martinsicuro. Papà arrestatovi. Brucio vivi e vi taglio la testa. La fotonotizia che campeggia al centro con il paradosso. Goretta Verde veleggia nel Cerrano. Inquinato il fiume del Parco Marino. E poi in basso leggiamo strisce blu. Ora scattano le multe. Rosetto degli Abruzzi. Finita la fase della sperimentazione. E infine musica. Marlene Kunz in concerto il 18 agosto in piazza Buozzi a Giulianova. Finiamo qui con le prime pagine dei quotidiani locali. Andiamo ora a dare uno sguardo. Il nostro consueto sguardo ai quotidiani nazionali. Alle prime pagine. Siamo sul messaggero. Questa è l'apertura. Le ONG ribelli escluse dai soccorsi migranti. Il Viminale risponde alle organizzazioni che non hanno sottoscritto il codice di condotta. Hanno firmato solo Save the Children e MOAS. MSFR Contraria. Medici senza frontiere. E poi la D. Dieni Descalzi da Serrai in Libia. Sotto la testata c'è l'utto nel mondo del cinema. Addio a Jean Moreau. Star anticonformista. Scomparso anche il duro Shepard. L'editoriale di Biagio De Giovanni. La partita europea. Il vecchio AS. Franco tedesco. E le chance per l'Italia. Oggi il vertice decisivo. Fincantieri STX. Il giorno della fermezza. Gentironi. Difendiamo i nostri interessi. Ed ecco la fotonotizia. Venezuela. Le minacce di Maduro preoccupano Europa e Stati Uniti. In arrivo misure contro giudici e opposizioni. In taglio medio. Le vicende sempre attuali della capitale. Roma. Rivoluzioni in Atac. Movimento 5 Stelle spaccato sul nuovo amministratore delegato. Nominato Paolo Simeoni. Già braccio destro di Colomban. E poi ancora in basso 281 milioni all'anno. Le pensioni record dei dipendenti di Montecitorio. Passiamo ora alla prima pagina del tempo. L'apertura. Delirio metropolitano. La metro A chiude per lavori. Capitale in tilt. Romani e turisti inferociti. E poi questa foto che ieri ha fatto il giro sui social. La dolce vita migrante nudo fa il bagno nel fontanone. Al genicolo nuova umiliazione per Roma. E poi in basso confermata l'anticipazione del tempo. Torneranno il 12 settembre. Deputati in vacanza. 40 giorni. Come anticipato dal tempo. A fronte di una media lavoro bassissima per singolo deputato. 4 ore al giorno. Le ferie saranno lunghissime. 40 giorni. La conferenza dei capigruppo della Camera ha deciso. I lavori a Montecitorio termineranno il prossimo giovedì 3 agosto. per riprendere il 5 settembre nelle varie commissioni. Il 12 in aula. Avanti con la prima pagina di Repubblica. Ecco l'apertura. Migranti, ONG contro le regole. Viminale fuori dai soccorsi. Missione in Libia. Si voterà anche in aula. MDP si defila. Troppe ombre. E poi il caso. Il Venezuela condannato alla dittatura e alla fame. In basso, in taglio medio. Leggiamo lavoro. Ora la riscossa è femminile. Crescono i posti. Non le qualifiche. In calo tutta la disoccupazione. Sempre più contratti a termine. Lo scontro in Campidoglio. Atac e le nomine di raggi sconfessano l'assessore. E poi leggiamo di spalla Italia sfregiata in viaggio nella penisola. Degli eco mostri. La notizia che leggiamo, anzi le notizie che leggiamo a piedi pagina. Ecco qui stop alla navigazione libera. La muraglia anti-web dalla Russia alla Cina. E poi da quest'altra parte Trump fuori un altro. Cacciato Scaramucci. Era stato nominato dieci giorni fa capo della comunicazione di Trump. Ed ora il Corriere della Sera. Ecco l'apertura. ONG fuori chi non ha firmato in cinque, tra cui i medici senza frontiere rifiutano il codice. Minniti. Ora conseguenze. La lettera di Serrai. I pattugliamenti congiunti e le vostre navi nel porto di Tripoli. E poi leggiamo sotto la testata. All'Italia offriamo la guida dei nostri cantieri. L'intervista al ministro dell'economia francese spiega la proposta che porterà oggi a Roma. Le azioni al 50%. E poi sempre sotto la testata. Dio Jean Moreau. L'attrice aveva 89 anni. Musa della Nouvelle Vague. E poi Federica Pellegrini. Che ha appena portato a casa loro nei 200 stili libero nel campionato del mondo. Dice in pace con me stessa ma è tempo di ripartire. Ho pianto per Magnini. Andiamo a vedere in basso la fotonotizia. Stati Uniti via Scaramucci dopo appena 11 giorni. Un altro licenziato alla Casa Bianca. E poi l'analisi. Donne occupate. I limiti di un record. Ma è così tante. Dal 1977. La prima pagina della stampa. Anche in questo caso il caso migranti guadagna l'apertura. Migranti schiaffo delle ONG al governo. Medici senza frontiere guida la rivolta contro il giudice sui salvataggi. L'Italia siete fuori. La riunione al Viminale si conclude con uno strappo per fermare gli sbarchi. Ora l'esecutivo punta sulla missione in Libia. E poi leggiamo al centro cantieri Roma-Parigi il giorno della verità possibile accordo sulle navi militari. Il caso USA Trump liquida anche Scaramucci. La fotonotizia dedicata allo sport con Neymar che è l'uomo da 600 milioni di euro. Il campione brasiliano dal Barcellona al PSG aggirando il fair play finanziario. E' l'affare del secolo e c'è il commento di Gigi Garanzini. L'assalto finale alle regole del calcio libero. Ecco qui l'apertura, il silenzio sulla fine vita e la morte della politica. Il Parlamento ha perso dignità. La legge che disciplina i casi di persone terminali o in stato vegetativo non viene approvata per viltà. E' studitanza culturale. Onorevoli e senatori sono capaci solo di fuggire dalle proprie responsabilità. Un malato al giorno chiede ufficialmente di farla finita. In tre anni 737 suicidi. La fotonotizia con le parole di Mauro Corona. Preferisco i plantigradi ai ladri. Voglio uccidere chi sgradito entra in casa mia. Lo scrittore insegue con l'accetta tre ragazzi che volevano svaliggiare la sua abitazione. Poi c'è il commento piuttosto tranciante di Vittorio Feltri. Più orsi e meno migranti sarebbe l'ideale. Gli animali li abbiamo importati noi. I clandestini arrivano senza permesso. E poi in basso Povia. Non piace a tutti perché dice la verità. La canzone Immigrazia denuncia l'invasione. Avanti con la testata del secolo XIX. Ecco l'apertura. Fincantieri STX spunta il piano B. La Francia rispolvera il progetto Magellano e vuole strappare l'accordo sulle navi militari. Oggi il vertice ipotesi scambio azionario con Naval Group. Avanti ancora con la prima pagina di avvenire. Naufraga il codice per le ONG in mare. Firmano solo in due. Viminale e le altre sono fuori. Poi il fatto. Il regolamento del Ministero dell'Interno riceve il sì di Save the Children e MOAS. Medici senza frontiere e associazioni straniere rifiutano la gente a bordo. Poi in basso sul fronte lavoro. Don record e più occupati. Ma a termine. Cala la disoccupazione a giugno. Proseguiamo con il manifesto. Ecco l'apertura. Codice a sbarre. ONG divise sulle nuove regole per i salvataggi. Medici senza frontiere non firma. Il codice voluto dal Viminale che avverte. Chi non aderisce è fuori dal sistema dei salvataggi. Oggi il governo cerca i voti per la missione militare nella Libia del caos. Poi in basso STX Francia Italia con la faccia cattiva. Fincantieri. Oggi il confronto. Ipotesi di un polo navale militare. Questa è l'apertura del mattino. Il macabro piano di Ciro. Delitto gay. Il giorno prima del massacro affittò il garage per occultare il corpo. Ad Aversa. L'omicidio era premeditato. La vittima è stata decapitata. Il ritrovamento grazie a un super testimone. Poi i medici senza frontiere. Lo strappo sui migranti. No armi a bordo. Stop al codice ONG. Il governo. Ci saranno conseguenze. Poi in basso la fotonotizia perché il Napoli è già da scudetto. Oggi la prima vera sfida con l'Atletico Madrid per quanto riguarda il precampionato. Andiamo ora con la verità. Aumenta il lavoro. Cala lo stipendio. La verità. Sui dati dell'Istat. Talaboschi esulta perché ci sarebbero meno disoccupati ma viene insultata sul web. A leggere bene le cifre infatti crescono gli inattivi e i lavori precari mentre scendono solo in Italia le retribuzioni. Povia canta la verità sugli immigrati. Linciato. Questa è la fotonotizia. E poi in basso vediamo coltelli e pistole. La guerra dei clandestini. Sudanese tenta di sparare in testa a un vigile. Intanto le ONG non sottoscrivono le regole di Minniti. Siamo addirittura d'arrivo vedendo la prima pagina del Sole 24 ore. Fisco piano delle entrate per recuperare 15,7 miliardi. Sugli obiettivi 2017 persano gli incassi Unatatum. Ruffini avvia la riorganizzazione dell'Agenzia. Pronta la convenzione con il Ministero dell'Economia. E poi in dettaglio medio Fincantieri, linea dura di Roma, Vertice, Gentiloni, Padoan Calenda. Aspettiamo proposte. Oggi l'Emer al MEF, l'ipotesi del controllo in due fasi. Abbiamo finito qui con le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Adesso iniziamo a sfogliare le pagine del centro. E qui siamo a pagina 2. Abbiamo visto già un richiamo in prima pagina. e dunque macchina. Quanto ci costi? Abruzzo spesa fino a 1.700 euro per mantenere le auto di famiglia. L'assicurazione è la voce più pesante, ma confrontando le offerte su internet si può risparmiare anche 1.000 euro. Il resto dipende dalla cilindrata, dalla provincia e dall'età del guidatore. Qui abbiamo una trabella riepilogativa dei dati abruzzesi con le spese più alte e più basse per le RC e appunto classificate per regioni con l'Abruzzo che si trova in una posizione mediana. Andiamo a leggere sempre a pagina 2 in basso il divieto di sosta in cima alle infrazioni. I numeri dei capoluoghi abruzzesi solo a Pescara si elevano 197 contravvenzioni al giorno. E poi la manutenzione fa i conti con la crisi, ma guai a trascurarla. Parla di Pillo, delegato della Confartigianato Abruzzo. Per gli interventi ordinari si va dai 250 ai 300 euro l'anno. E poi ancora, sempre in questo articolo leggiamo, la donna porta la macchina e dice che ha una spia accesa e deve fare il tagliando. L'uomo scende un po' più nei particolari e chiede di cambiare filtro, olio e pasticche dei freni. In basso autovelox che salasso, sulle strade sono molti e non sempre servono alla sicurezza. Andiamo avanti, scivoliamo nelle pagine della regione Abruzzo. Ecco qui con Goletta Verde che ieri ha concluso il suo tour sulle spiagge abruzzesi. Ecco qui Goletta Verde, ecco le cinque zone inquinate a seguito dei prelievi effettuati sulla nostra costa. Due nel Chietino, una nel Pescarese e due nel Terramano. Legambiente svela la mappa dove è meglio non fare il bagno. Ecco qui la suddetta mappa. Allora entro i limiti di legge siamo a Giulianova, nella spiaggia di fronte via Taondi-Revel sul lungomare Zara. Entro i limiti anche la spiaggia antistante Piazza Primo Maggio a Pescara e Fosso del Diavolo in località Dragoni a Torino di Sangro. Le cinque spiagge, i cinque prelievi che invece sono risultati al di là dei limiti con indice fortemente inquinato. Silvi Marina, proprio la foce del fiume Cerrano a Montesilvano. Siamo a cento metri a sud dalla foce del fiume Saline. Foce del Fosso Valle Lunga a Pescara. Foce canale di località La Foce a Rocca San Giovanni. E poi la foce del fiume Feltrino a Marina di San Vito Chietino. E poi ancora leggiamo sotto accusa le foci dei fiumi e i depuratori vecchi nonostante i 270 milioni stanziati. Allora vediamo il servizio sull'arrivo di Goletta Verde che ieri è stata proprio all'area marina protetta a Torre del Cerrano. Sabato la Prodo a Vasto. Stamani l'arrivo a largo delle spiagge dell'area marina protetta a Torre del Cerrano a Pineto. Goletta Verde, l'imbarcazione con cui Legambiente attraversa i mari e le coste italiane portando avanti la sua campagna contro inquinamento, trivelle e abusi di lizi, chiude oggi le sue giornate abruzzesi. E l'occasione è ideale per presentare i dati dei campionamenti effettuati nella nostra regione. Su otto punti analizzati cinque sono risultati fortemente inquinati. Foce del Vibrata dal Badriatica, del Feltrino a San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fosso Valle Lunga a Pescara, Foce del Saline a Montesilvano, del Fiume Cerrano a Silvi. Nella norma Fosso Dragone a Torino di Sangro, Piazza Primo Maggio a Pescara e la spiaggia davanti via Town di Revella a Giulianova. La causa di tutto questo è come sempre una scarsa depurazione ma anche gli scarichi illegali. Devo ricordare che questo è un paese ancora dove un cittadino su quattro sversa direttamente nei nostri mari, nei fiumi e nei laghi. Quindi noi continuiamo a dire da anni che è la prima infrastruttura sulla quale i nostri governi, regioni, comuni dovrebbero lavorare proprio per migliorare lo stato di salute dei nostri mari. La regione ha messo in campo negli ultimi anni anche investimenti importanti, però qui anche i comuni devono fare la loro parte. Noi stiamo chiedendo con forza una maggiore sinergia sia per chiudere rapidamente le strutture che sono state messe in campo e parliamo di investimenti che aumentano a circa 270 milioni di euro, ma anche lavorare in modo più sinergico sui contratti di fiume. È positivo il lavoro fatto finora ma bisogna andare oltre, bisogna entrare di più nella dimensione di bacino di ciascun'area e deve diventare una prassi su tutta la regione. Quindi possiamo dire oggi con questi dati che monitoriamo una realtà che tende a riemergere, però ovviamente sficcare questa salita è un impegno forte e deve essere fatto sinergicamente da parte di tutti. L'ambiente, in quella che vuole essere la regione verde d'Europa, può essere una risorsa importante per il comparto turistico. Ecco perché sabato, a Basto, Legambiente e Regione Abruzza hanno firmato il protocollo per il turismo attivo. Turismo di massa che è sempre meno richiesto, in realtà viene sempre più valorizzato un turismo di qualità perché ovviamente in vacanza ci si vuole rilassare, si vuole gustare il buon prodotto, il vino dà la gastronomia al vino, alle eccellenze. L'Italia si gira e ci si viene anche per queste ragioni, perché non valorizzarle? Torniamo sul centro, cure specialistiche, crescono gli ambulatori, la giunta regionale approva la delibera, punta a fare scendere ancora di più i ricoveri ospedalieri. Avanti ancora, trasporto pubblico in Abruzzo, Tua approva il bilancio, 40 milioni per nuovi bus, D'Alfonso chiede di allungare le corse dopo la mezzanotte, richiama all'ordine l'ex presidente Luciano D'Amico, deve selezionare alcune frequentazioni. Avanti ancora, siamo alle pagine di Pescara, la crisi in comune, non c'è intesa con Teodoro, consiglio di nuovo bloccato. In aula, 600 emendamenti al bilancio, il Movimento 5 Stelle presenta una mozione di sfiducia. E poi ancora, sempre a Pescara, gli sfollati di Rancitelli, famiglia con nove figli, dorme in auto da 22 giorni, protesta in municipio dei coniugi Spinelli, ancora senza sistemazione dopo lo sgombero in via Lago di Borgiano. L'assessore, presto avrete un tetto. E poi ancora, in basso, palazzine sgomberate, indaghi la Procura. L'ex assessore Foschi presenta un esposto, la causa di inagibilità non è stata determinata dal sisma. E poi ancora, oggi e domani, Pescara tra le cinque città più calde d'Italia, allerta del Ministero della Sanità, l'esperto De Palma, fino alla prossima settimana, umidità record e AFA anche di notte. Il problema non sono le temperature, che saranno al di sopra anche di 10 gradi, ma la persistenza del fenomeno per 10 giorni. E poi c'è questa tabella, appunto emanata dal Ministero della Salute, come proteggersi dal caldo. Ci sono appunto varie indicazioni. Tra queste, ecco qui, il Consiglio del Medico, bevete due litri di acqua, bevete due litri di acqua al giorno e non aspettate di avere sete. Avanti ancora, allora, siamo alla vicenda ASL, la nomina del direttore diventa un caso alla Regione, Febbo, presidente della Commissione Vigilanza, convoca Mancini per domani. Zappalà non aveva i requisiti per diventare responsabile amministrativo. Poi, in taglio medio, gli infermieri chiedono altre assunzioni. All'ospedale il personale è ridotto all'osso, ne risente l'assistenza. Aumentano le liti con i pazienti. E poi, a piedi pagina, leggiamo la doppia visita istituzionale, l'ambasciatore algerino in città, scambi culturali ed economici. Vediamo il servizio. Avvicinare i due paesi, Algeria e Italia, legati da profonde radici culturali comune, da tantissimi interessi economici che rendono il nostro paese il primo cliente dello Stato nordafricano. Il 19 e 20 di ottobre, Pescara sarà il Tredunion, perché ospiterà il meeting tra i due paesi del Mediterraneo. Si tratta di un incontro istituzionale finalizzato ad agevolare scambi culturali ed economici fra i rispettivi territori. Questa mattina, l'ambasciatore algerino in Italia ha visitato Palazzo di Città incontrando il primo cittadino di Pescara per condividere l'organizzazione dell'evento ed approfondire e discutere i rapporti che nasceranno con il paese africano. Oltre alle iniziative bilaterali che prenderanno vita entro l'autunno prossimo in sinergia con il World Trade Center di Pescara e il World Trade Center di Algeri, gli altri enti del territorio e i rappresentanti del comparto economico. Ho appena avuto un incontro con il mio amico Marco Alessandrini di cui abbiamo parlato appunto delle relazioni economiche tra Algeria e Italia ma abbiamo convenuto sul fatto che Pescara sarà il punto di partenza di queste relazioni. Sono molto importanti le relazioni economiche tra l'Algeria e l'Italia. L'Italia è il primo cliente, diciamo primo partner economico dell'Algeria e il secondo e il terzo su alcune anche forniture dipende dal periodo. Partiremo quindi da Pescara per far conoscere questi 2000 anni di storia che pochi conoscono e dobbiamo assolutamente quindi recuperare questo gap storico e far conoscere a tutte le nuove generazioni i rapporti storici che ci sono stati, relazioni che ci sono state non solo storiche, economiche e culturali tra l'Italia e l'Algeria. Oggi pensiamo che appunto la cultura resti uno strumento formidabile per avvicinare le persone e favorire naturalmente gli scambi economici. A margine infatti del forum economico stesso ci sarà un'iniziativa culturale cui teniamo molto perché ci sarà una mostra di artisti algerini in Italia e noi rispondiamo fra virgolette con un grande fotografo pescarese Luciano D'Angelo che da oltre 40 anni fotografa le miraviglie archeologiche dell'Algeria che sono davvero straordinarie perché 2.000 anni di storia hanno lasciato tracce e vestigia molto ben presenti che potremo ammirare appunto il 19 e il 20 di ottobre prossimi. Sempre sul centro ecco l'associazione che farà nascere la nuova Pescara sindacati, categorie e ordini professionali uniscono le forze e l'obiettivo è di dare impulso all'attuazione del referendum e nel 2014 fu votata la fusione tra Pescara Montesivano e Spoltore appunto per la nuova Pescara. Avanti e siamo a Francavilla Luciani lavori chiusi nella scuola Masci entro fine agosto il sindaco rassicura opposizioni e famiglie sulle condizioni dell'istituto ingabbiato da un cantiere. Poi in taglio medio a San Giovanni Teatino progetto comune a destra inaccettabile l'ex assessora Federico contesta la conversione leghista di due consiglieri. Siamo alle pagine di Montesilvano parliamo di commercio negozi aperti e bus navetta artisti di strada per la nuova notte degli acquisti sarà bissata domani la rassegna che il 7 luglio ha avviato la stagione dei saldi chiusi Corso Umberto e Viale Europa e poi pannelli fonoassorbenti sui binari in arrivo barriere da 4,7 metri contro i rumori dei treni siamo nella Val Tavo Loreto lupi all'assalto di un caseificio il branco è sceso fino al centro collinare ha sgozzato una decina di pecore altri 50-60 ovini non sono rientrati nelle stalle parla il titolare dell'azienda va bene proteggere questi animali selvatici ma qualcuno dovrebbe pensare anche a noi e al nostro lavoro pagina di Chieti di aggressione a San Salvo palpeggiano la figlia e picchiano il padre turista colpito in volto da due giovani che sul lungomare affollato avevano molestato la minorenne entrambi fermati in basso Ateneo Capasso al vertice della fondazione Senato e CdA avallano la nomina proposta dal rettore Caputi e per il nuovo DG oggi si apre il bando pagina Aquilana il caso che scuote la curia Don Vito il vescovo indaga il cerimoniere rischia la sospensione dopo la sentenza che certifica la relazione con una donna sposata per provare la love story erano stati ingaggiati dal marito tradito degli investigatori privati che hanno pedinato la coppia per alcuni mesi hanno scattato delle fotografie i legali dell'uomo stanno per inviare alla curia una richiesta per chiedere di prendere provvedimenti a carico del sacerdote anche perché ha chiesto indietro i soldi della causa poi in basso travolta da un peso di 5 quintali a Tagliacozzo inchiesta sulla morte della ragazza di 23 anni il cancello è uscito dal binario e ora la pagina di Teramo sempre la cronaca picchia la moglie la fa abortire arrestato Martinsicuro l'uomo maltrattava e terrorizzava anche i figli piccoli vi taglio le teste non vi faccio vivere e poi ad Alba Adriatica blitz contro gli abusivi denunciati tre venditori ci fermiamo con la prima parte di mattino 6 spazio alle previsioni del tempo alla pubblicità e poi rientriamo di nuovo buongiorno riprendiamo con il messaggero Abruzzo questa edizione di mattino 6 di martedì primo agosto ecco qui tua bilancio inutile e fondi per i nuovi bus presentati all'Aquila i conti del 2016 diminuiscono i ricavi ma anche i costi D'Alfonso ha annunciato 40 milioni per rifare il look del parco mezzi e poi ancora le parole di Mauro Febbo del consigliere regionale Mauro Febbo rendi conto approvato in ritardo con un utilino frutto di crediti inesigibili ad oggi ascoltiamo le parole del governatore D'Alfonso proprio sul bilancio della tua sono molto soddisfatto del lavoro che hanno fatto ma naturalmente abbiamo ulteriori importanti ambiziosi obiettivi quali sono i numeri di questa gestione 700 mila euro di utile di esercizio abbiamo 26 milioni e 500 mila viaggiatori serviti su 35 milioni di chilometri stradali condotti fatti abbiamo qualcosa come 1.606 dipendenti che rappresentano la centralità di questa capacità organizzativa abbiamo organizzato la riduzione della contribuzione pubblica l'innalzamento della quantità del servizio e l'aumento dell'utile di esercizio c'è un dato che abbiamo messo in campo 40 milioni di euro definiti con il Ministero delle Infrastrutture e con la presenza del Consiglio dei Ministri per rinnovare il parco rotabile un parco oggi che è composto da mille vettori sia quelli di gomma che di ferro che noi vogliamo rinnovare poiché vogliamo abbassare l'età media di questi mezzi noi vogliamo anche valorizzare i beni immobiliari di Tua facendo in modo che quando Tua ha valorizza quando Tua compra compra sapendo comprare dando bene il prezzo e dando bene il valore io sono soddisfatto consapevole che la qualità delle città il rating della qualità delle città come vita deriva dalla qualità dell'offerta del trasporto ho chiesto a Tua di aumentare il raggio del servizio nelle città capoluogo se la vita universitaria sfonda la mezzanotte anche la vita del servizio di Tua deve superare la mezzanotte perché attraverso il trasporto di qualità si rende possibile la riforma sanitaria la qualità dei diritti rispettati abbiamo anche chiesto che Tua si faccia carico di due promesse di due impegni che deve mantenere lo statuto del viaggiatore dell'utente viaggiatore quali sono le sue certezze i suoi diritti e i suoi doveri e poi anche un contratto di programma rispetto a investimenti al futuro per fare in modo che sempre di più Tua sia all'altezza della domanda di spostamento agli abruzzesi e di chi ci viene qui parliamo di cifre sempre sul messaggio Abruzzo Castelbasso stasera Arminio apre gli attesi incontri letterari tre eventi con un poeta una scrittrice un antropologo che hanno posto il sud al centro della loro ricerca andiamo avanti siamo alla pagina di Pescara scosse in Adriatico paura a Pescara registrato alle 4.37 di ieri un terremoto di magnitudo 3 a largo della città lo sciame interessa la faglia di mattinata ecco qui la cartina con il punto a largo appunto di Pescara 94 km da Pescara l'epicentro il sismologo Antonio Moretti dice apprezzione comprensibile ma non vedo condizioni di pericolo per la stabilità degli edifici avvertita distintamente in molti quartieri la replica del sisma di 3.6 verificatosi alle 23.19 di domenica di fronte al Gargano e poi ancora rischi teorici sono legati piuttosto ai maremoti il precedente del 1627 e le precauzioni da adottare e poi ancora in basso leggiamo notte bianca lista Teodoro in trincea ostruzionismo contro il finanziamento parte in salita la discussione sull'assestamento di bilancio acqua slitta il caso degli allacci abusivi avanti ancora sempre a Pescara popolari e fatiscenti case da incubo per 400 famiglie il caso dei palazzi di Via Lago di Borgiano è soltanto la spia del disagio delle periferie infiltrazioni e cornicioni pericolanti Fontanelle aspetta i fondi promessi a causa dell'umidità o l'artrosi ho perso il lavoro racconta Calogero Millemaci Blasiori schiarita dai 5 milioni in arrivo e poi in basso il ponte Littorio e le statue sparite in mostra uno dei modelli evento all'Aurum mentre continua la ricerca dei bronzi di Nicola Tantino un giallo internazionale e siamo sempre alle pagine di Pescara con l'ispezione che partirà domani per la Pescara Calcio tasse e biglietti conti al setaccio domani comincia l'ispezione dei bilanci disposta dal tribunale delle imprese sul ricorso di Iannascoli e respinta all'opposizione di Sebastiani possibili risvolti penali legati a due voci dei consuntivi 2015 2016 e Massimo Mancinelli il pericolo incaricato sotto la lente anche il prestito da 5 milioni di Pescara Abruzzo e poi Asle nel mirino la nomina del direttore amministrativo Zappalà arriva da un ente privato dice Febbo convocato Mancini e siamo alle pagine Aquilane scoperto il magazzino dei topi d'appartamento ben 511 oggetti sequestrati refutiva di una serie di recenti furti in città tra il materiale rinvenuto anche i componenti di termoidraulica computer portatili e quadri gli agenti della squadra volante diretti da Roberto Mariani non hanno creduto ai loro occhi e poi ancora di spalla leggiamo Sgambati è il nuovo avvocato generale prende il posto di Romolo Como andato in pensione non sarei stato in grado di fare come lui e poi ancora Parroco ha avuto Love Story Buffera sulla Curia Aquilana andiamo avanti restiamo sempre sulle pagine Aquilane ecco qui Caruso Presidente ora subito il Cotugno cambio della guardia al vertice della provincia dopo il voto le elezioni di secondo livello premiano l'Aquila quattro eletti già oggi il vertice con il primo cittadino sul caso del liceo dobbiamo arrivare alla riapertura con decisioni prese cerimonia breve a Palazzo Silone raccolto il testimone da Fabrizio D'Alessandro avanti ancora siamo alle vicende del comune dell'Aquila scaramucce sul bilancio ma l'assestamento passa biondi ironico la posizione di certi consiglieri è come quella dei Pù sempre uguale avanti ancora con le pagine della Marsica schiacciata dal cancello si cerca la verità magistrati e carabinieri a Villa San Sebastiano per cercare di far chiarezza sull'assurda morte della 23enne Amea Arbutine sequestrati luoghi presso la cooperativa Agricola La Villa dove si è verificato il tragico incidente interrogatori al via la ragazza di origini macedoni e figlia del custode aveva lavorato per un po' di tempo in un call center pagina di Chieti rifiuti e verde via libera all'appalto da 70 milioni smaltire l'amianto sarà gratuito in centro isole ecologiche e bidoni condominali usati i droni per scoprire le discariche abusive un centro di riuso per aiutare i meno abbienti e poi le parole dell'assessore comunale Bevilacqua puntiamo alla qualità del progetto e non ai ribassi due infopoint sul colle e allo scalo e sito internet per rispondere alle domande degli utenti di Spalla Università dal CDA l'ok al bando per il nuovo DG e poi leggiamo in basso verrà pubblicato a brevissima la scelta finale toccherà al rettore Sergio Caputi avanti ancora restando sempre sulle pagine di Chieti ma qui siamo in provincia di Chieti il comune sfratta il festival del cabaret il presidente dopo 17 anni costretti a emigrare cacciati con motivazioni assurde mandati via dal teatro Fenaroli poi dalle torri montanare volevano darci piazza plebiscito ma senza chiuderla al traffico quando ho votato Pupillo e filato tutto liscio poi la candidatura con Forza Italia ed ecco i problemi in basso siamo sempre a Lanciano meglio in taglio medio cancelliere disabile non trova posto in tribunale o in procura dopo una malattia il dipendente dovrà fare ritorno negli uffici di Chieti l'amarezza dell'avvocato Troilo avanti avanti con le pagine terramane scuola e sicurezza il prefetto convoca comune e provincia Brucchi a di sabatino deve pubblicare gli indici sismici degli istituti superiori l'opposizione boccia subito l'idea stadio meglio investire su progetti definitivi i genitori nuovamente sul piede di guerra chiedono un altro vertice e si dicono pronti a ulteriori denunce di spalla assemblea dei sindaci rebus tunnel del Gran Sasso in ballo i lavori di riverniciatura che in passato avrebbero inquinato le falde acquifere avanti ancora sul fronte post terremoto a Montori a ottobre arriveranno 46 casette e siamo sulla costa a Giulianova con l'ecocentro calerà la bolletta Tari saranno i cittadini protagonisti conferendo direttamente rifiuti nella nuova struttura comunale che sorge oggi a Colleranesco la città è al 70% della raccolta differenziata ma gli sconti non si sono avuti ora finalmente sarà possibile si comincia già oggi il centro sarà aperto 6 giorni a settimana finiamo qui con il messaggero andiamo ora a sfogliare le pagine della città il quotidiano della provincia di Teramo e partiamo da pagina 4 parlando di sicurezza scolastica il consiglio si spacca sulla curva del Bonolis la proposta di creare una scuola gioia allo stadio non piace all'opposizione in comune si continua a navigare a vista indici disastrosi 85% delle scuole del capoluogo non rispetta nemmeno gli standard minimi di sicurezza antisismica varati dopo il sisma del 2009 non c'è un solo edificio antisismico e qui abbiamo gli indici sismici in rosso come è possibile leggere in rosso gli edifici sotto la soglia di sicurezza andiamo avanti con le parole dei genitori ecco qui basta insistere con statuto apposto comitato dei genitori preoccupato per lo stato dell'edilizia scolastica e poi ancora il rischio è che a settembre l'amministrazione comunale debba chiudere altri sei edifici scolastici per carenze strutturali e di sicurezza compreso il nuovo polo alla scuola Molinari andiamo avanti tutti i sindaci contrari ai lavori nel traforo l'assemblea dell'assi vota per la sospensione e il rinvio della ritinteggiatura decisa da strada dei parchi e poi ancora servono 65 milioni per gli sfolati dell'Ater terremoto intanto la regione ne spende 1 milione al mese per l'autonoma sistemazione o per tenerli in albergo un cappello extra large per i fondi alla Cone 2 milioni e mezzo promessi per la delocalizzazione della centrale accendono la gara ad intestarsi i meriti ancora siamo alle notizie dalla provincia senza telefono impossibile fare ristorazione a Frattoli la trattoria dei monti della Laga senza linea da due mesi nonostante le bollette pagate regolarmente l'avvocato dice decine di chiamate al numero verde di Telecom non sono bastate per riattivare la linea e poi il premio Teramo che lavora il giusto riconoscimento all'eccellenza del territorio sabato scorso a Tortoreto il gran galà della quattordicesima edizione della manifestazione organizzata dal patron Patrizio Panichi e qui lo vediamo tra i conduttori della serata Mediogoria e Veronica Maia avanti ancora per la cronaca vi brucio vivi e vi taglio la testa massacrava la compagna davanti ai figli padre padrone in manette tutto questo a Martinsicuro in carcere un 48enne disoccupato e con il vizio dell'alcol dopo un pestaggio la donna ha abortito avanti ancora e siamo a Sant'Egidio muore ad un mese dall'incidente Ivan Sebillo di Sant'Egidio lavorava come pasticcere a San Patrignano l'incidente il 26 giugno scorso il quarantenne ha perso il controllo dello scooter finendo contro un cordolo avanti ancora e siamo a Giulianova scuole insicure chiude anche l'Ipsia l'annuncio di Federica Vasanella durante il consiglio comunale di ieri gli indici sono al di sotto del limite di 0,20 studenti trasferiti nel vicino ITIS e poi ancora a Roseto stop tolleranza da oggi scattano le multe l'amministrazione comunale di Roseto approva il frazionamento delle ore di sosta e l'esenzione per i disabili nuove critiche nonostante le modifiche la destra sociale torna a criticare la scelta persi troppi stalli e poi la modifica la tariffa minima passa a 20 centesimi e consente la sosta per un quarto d'ora il parcometro calcolerà l'orario esatto della sosta andiamo ora alla pagina dello sport ecco qui sulla città chiaramente si parla di Teramo con le ultime di mercato Spighi Val Catanzaro attesa per Terracino ecco qui il centrocampista in prestito per un anno capitano definitivo a Ravenna in settimana la risposta della punta il Teramo ha l'accordo con Bacio Terracino ma su di lui ci sono anche Livorno e Gianna Irminio in settimana l'attaccante farà sapere la sua scelta per gli esuberi invece finora nessuna offerta anche il riscatto tornando al prestito di Spighi al Catanzaro c'è la concreta possibilità che venga inserito anche il diritto del Catanzaro al riscatto del giocatore poi ancora per l'Atletica il trofeo Città di Penne torna a Morrodoro e in basso per il basket Giulianova basket 85 continua a rinforzarsi ecco Nicola Bastone l'ala spezzina arriva dalla Comarc Bergamo il progetto giallorosso mi ha convinto speriamo di divertirci in stagione prima di vedere le pagine di Centro Messaggero dello Sport diamo un rapido sguardo alle prime pagine dei quotidiani sportivi ecco qui iniziando dalla gazzetta dello Sport sono l'uomo Champions questa è l'apertura l'intervista a Douglas Costa e la Juve brasiliana nessuna squadra ha più voglia di vincere la Coppa Higuain è un campione io sono il migliore amico dei centravanti sotto la testata Zang compra Inter ci rinforzeremo sempre vicini a Spalletti e poi di Spalla Febbre Milan boom di abbonati subito fila record giovedì in 60.000 per il ritorno del preliminare di Europa League e poi sempre di Spalla Napoli tra le grandi Sarri io l'intruso oggi test Simeone Parigi Valbene Neymar Barca su Mbappé e poi tutti su Keita il diavolo sfida Marotta Bianconieri sempre in vantaggio per il Laziale il Milano offre 30 milioni e c'è anche l'Inter e poi in basso Gallo e il pugno all'Italia mi scuso sto male andiamo a vedere ora la prima pagina del Corriere dello Sport Sheikko Neymar annuncio dalla Francia il brasiliano al PSG è questione di ore giocatore ieri in Cina pronto a sbarcare a Parigi la clausola record di 222 milioni versata dal Qatar Barca furioso non vuole pagare il bonus al padre poi sotto la testata Juve Douglas Costa in Champions siamo i favoriti Inter Zhang Junior vogliamo gente che ami la maglia poi in basso Manolas resto alla Roma rinuogo pronto fino al 2022 De Laurentiis Napoli l'ora dello Scudetto esame atletico Formula Ferrari gran premi per allungare tre gran premi per allungare sulla Mercedes tutto sport che apre anche in questo caso come la Gazzetta con l'intervista a Douglas Costa Iguain ti farò volare poi Toro Tonnelli Zapata doppio Sib e Belotti Suda al fila in basso Milan Ibra indizi rossonieri boom abbonamenti Neymar PSG ci siamo oggi visite in Qatar basket Gallinari vi chiedo scusa Sacchetti di Sara CT torniamo alle pagine dello sport ma quelle locali sul centro ecco qui Lega B a Pescara incontro tra le nove società dissidenti Sebastiani ospita i presidenti dei club che hanno disertato l'assemblea a Milano è mancato il numero legale per l'elezione del presidente serve una soluzione entro 30 giorni per evitare l'arrivo del commissario il maggiore azionista del Delfino fa chiarezza Lottito non ha alcuna intenzione di candidarsi intanto si lavora sulle cessioni forte vicino alla Triestina Bulevardi verso Siena Fornasier tra Bari e Ascoli e poi ecco qui la presentazione a Pescara in settimana svelate le nuove maglie a Palliana la squadra continua a lavorare al ritmo di doppie sedute e poi sul fronte Serie C il Teramo sfoltisce via Spighi e Capitanio il centrocampista va a Catanzaro il difensore a Ravenna il DS Repetto resta in attesa di una risposta di Bacio Terracino sul quale c'è anche la Gianna Erminio e poi in basso per la serie di l'Aquila il sindaco da oggi l'ultimatum a Chiodi e Fioravanti andiamo a vedere anche il messaggero Abruzzo con la pagina dello sport Pescara una porta per due Fiorillo e Pigliacelli si contendono la maglia da titolare il debutto in Coppa è importante per capire le scelte di Zeeman l'extrapanese si avvicina di più al modello del Boemo ma l'altro è più esperto e sta rimontando posizioni per lo giuventino pagato 2 milioni quasi impossibile trovare un'offerta che possa evitare una minusvalenza per la serie C bacio Terracino Teramo accordo a un passo l'attaccante ha preso ancora qualche ora di riflessione prima di accettare il trasferimento e poi ancora la vicenda l'Aquila a tenere banco in serie D l'Aquila nuovo in top adesso scatta il piano B Chiodi Fioravanti non c'è accordo sulle fideiussioni ieri larga lunga riunione in comune l'attuale proprietà chiede al sindaco di trovare imprenditori locali ai quali cedere ci fermiamo qui con la rassegna stampa odierna di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti informativi del TG alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 io ringrazio in regia Maurizio D'Agui e ringrazio voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti grazie a tutti